È un 47enne residente a Romentino, l'operaio morto nella giornata di sabato 21 settembre nei pressi di un cantiere di Ledi Argegno, nel Comasco. Secondo le prime ricostruzioni e erre, queste le iniziali, sarebbe caduto in modo accidentale in un dirupo poco lontano da un camion. L'allarme è stato dato da alcuni colleghi. Grazie a tutti.